Vale, 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 mi date una visione di insieme, mi date una visione, scusate, guarda c'è un signore, c'è un signore molto bello che è accanto a te, alla tua sinistra, lui, lui, lo vedi? Guarda sul palco, scusate, vieni un attimo, facciamo un bell'applauso, no, tenete la musica, tenete la musica ragazzi, ora, guarda, date il microfono, date il microfono un attimo, come ti ami Ciccio? Fabrizio! Maurizio? Maurizio! Che cazzo ha, scusate, Fabrizio, cosa fai nella vita? Il microfono mafio! Come? Il microfono mafio! Ah, tecnici, mi sono di qua, sono alla tua sinistra, Fabrizio, mi vedi? Senti, allora, ciao, come già, te ce la fai a ballare un pochino? Un ballettino, via, vai! Con le mani, forza! Allora, sulle mani! Vai Maurizio, balla, balla! Allora, stasera, la nostra arte c'è, eh! Balla, balla, Fabrizio, balla, balla! Ma vale il massimo! Muoviti via! Troppo! Alza, alza, volumi, 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 volumi! Guarda la bellezza! E questo è il massacgino, eh! Allora, il microfono mafio, va! Casa di Fabrizio, vai! Grande, Fabrizio, vieni, 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 vieni da me!